Allora, oggi correggiamo l'esercitazione che vi ho fatto fare a coppie il venerdì prima della chiusura delle scuole. Allora, guardiamo il primo esercizio. Dice qual è il dominio della funzione y uguale f di x uguale x alla seconda meno 4 fratto x alla seconda più 1? Allora, andiamo a fare la condizione di esistenza del denominatore che dice che x alla seconda più 1 deve essere diverso da 0 e x alla seconda deve essere diverso da meno 1. x alla seconda è sempre diverso da meno 1, sempre verificata, cioè non c'è nessuna x che elevata alla seconda è uguale a meno 1. Quindi non c'è nessun valore di x che annulla il denominatore, perché questo è sempre diverso e quindi questo sarà sempre diverso da 0 e quindi non devo eliminare nessuna x. Quindi il dominio va da meno infinito a più infinito. E questo è il primo esercizio. Allora, il secondo esercizio diceva quali sono gli zeri della funzione f di x uguale x alla seconda, lo riscrivo un attimo, f di x uguale x alla seconda meno 4 fratto x alla seconda più 1. Vuole gli zeri. Allora, gli zeri sono le intersezioni con l'asse delle x. Sono le intersezioni con l'asse x. Perché? Perché in pratica 0 è riferito alla y, sono quei valori di x che fanno in modo che la y sia uguale a 0. Quindi y uguale a 0. E allora il dominio è lo stesso di prima perché è la stessa funzione, quindi il dominio coincide con r. Mentre le intersezioni le trovo quindi facendo y uguale a 0. E y uguale a 0 vuol dire y uguale x alla seconda meno 4 fratto x alla seconda più 1. Questo diventerà x alla seconda meno 4 fratto x alla seconda più 1 uguale a 0. Il denominatore va via e ho le due intersezioni x uguale più o meno 2. Quindi ricordatevi che gli zeri di una funzione sono i valori in cui la funzione interseca l'asse delle x, cioè tutti quei valori che hanno la y uguale a 0. Poi il 3, l'assintoto orizzontale. Dice qual è l'assintoto orizzontale della funzione f di x, quindi valore esercizio 3, f di x uguale 7 meno x alla seconda, 7 meno x alla seconda, fratto 5x alla seconda più 2x meno 3. Allora, vi ricordo che per trovare l'assintoto orizzontale, dopo che avete fatto il dominio, il dominio visto che l'avete fatto ed è giusto, non lo sto a rifare, perché in pratica avete detto che il denominatore deve essere diverso da 0 e quindi avete trovato i due valori, va bene. Una volta che avete trovato il denominatore, per trovare l'assintoto orizzontale dobbiamo fare il limite per x che tende all'infinito. Facciamo, incominciamo col più, 7 meno x alla seconda fratto 5x alla seconda più 2x meno 3 uguale. Sostituisco, ho un infinito su infinito e quindi prendo il termine preponderante. Qui è meno x alla seconda e qui è 5x alla seconda, quindi avrò limite per x che tende a più infinito di meno x alla seconda fratto 5x alla seconda. Semplifichiamo x alla seconda e x alla seconda e ottengo meno un quinto. Quindi vuol dire che quando la funzione va a più infinito, la y si avvicina a meno un quinto e quindi y uguale a meno un quinto è l'assintoto orizzontale. Stessa cosa, meno infinito, faremmo gli stessi passaggi. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho la x, la mia funzione, che caratteristica deve avere? Deve avere la caratteristica che man mano la sua x si avvicina a più infinito, la y corrispondente deve andare a meno un quinto. Quindi vuol dire che deve stare da questa parte. Si avvicina, se questo è meno un quinto, vuol dire che la mia funzione deve stare, deve avvicinarsi a questa retta, sia di qua che di qua e quindi questo è il mio assintoto orizzontale. L'esercizio 4 invece chiede sempre l'assintoto orizzontale di un'altra funzione, che è f di x uguale 2x più 3 fratto 5 meno 2x alla seconda più 3x. Anche qui avete trovato il dominio e quindi la condizione di esistenza non la sto a rifare anche qua, perché quelli che l'han fatta l'han fatta giusta, diverso da 0 e poi hanno trovato i valori di x. Devo trovare il limite sempre per x che va a più infinito di 2x più 3 fratto 5 meno 2x alla seconda più 3x, che è uguale, se sostituisco la forma indecisione infinito su infinito, prendo il termine preponderante, qui è 2x, qui è meno 2x alla seconda, quindi avrò il limite per x che tende a più infinito di 2x fratto meno 2x alla seconda. Così semplifico il 2 col 2, la x con l'esponente di x alla seconda, mi rimane limite per x che tende a più infinito, sopra mi rimane 1 sotto o meno 2x uguale. Sostituendo più infinito avrei 1 fratto meno infinito che è uguale a 1, 0 meno per x che va a più infinito. Per x che va a meno infinito farei gli stessi passaggi, cambia solo quando vado a sostituire che diventa invece, meno e meno diventa più e quindi avrò 1, 0 più. Io vorrei farvi vedere, perché qualcuno ha sbagliato proprio anche il modo di scrivere i limiti, la simbologia, il limite si mette sempre quando ho ancora la funzione, cioè quando è presente ancora la x, non si mette quando invece vado a sostituire. E l'infinito su infinito si mette dopo aver sostituito il valore della x e aver fatto i calcoli, con dopo l'uguale, invece avete qualcuno veramente pasticciato tanto con la simbologia. Comunque, torniamo al nostro esercizio. Per x che tende a più infinito vado a un numero, che in questo caso è 0, vuol dire che y uguale a 0 è un assintoto orizzontale. Cosa vuol dire graficamente? Vuol dire che quando la x va a più infinito, la y tende a 0 meno, quindi vuol dire che la mia funzione deve avere, quando la x si trova da questa parte, la sua y deve stare qua sotto. E invece per x che tende a meno infinito va a 0 più, quindi deve stare da quest'altra parte. E quindi la retta è un assintoto orizzontale. Allora, il numero 5 che chiede l'assintoto obliquo, numero 5, assintoto obliquo, non vado a risolverlo perché, a parte che ho fatto altri video su questo, l'abbiamo già ripreso, ho già corretto due esercizi, e poi in generale l'avete fatto, quelli che ho corretto l'hanno fatto, sono riusciti a trovarlo. Quindi il numero 5 assintoto obliquo era il y uguale a x meno 1. Mentre andiamo a guardare il numero 6. Allora, il numero 6 dice, vi dà questa funzione e vi dice quale di queste equazioni è l'equazione di questa funzione. Allora, non è necessario stare a fare tutti i domini, tutti gli studi di funzione, non si finisce più. Si comincia a guardare il dominio. Allora, il dominio, per esempio, è diverso da, il dominio di questa funzione è x diverso da più e meno 3. Adesso si va a guardare quale funzione non ha il dominio che è quello che ho trovato. Quindi io escludo, questo non ce l'ha, quindi no la ha. No, no, a. Poi, questo ce l'ha, x diverso da più o meno 3 perché x alla seconda meno 9. Questo no perché x alla seconda più 9, quindi no c. No c. E poi, questi due invece ce l'hanno. Quindi ci rimangono tre funzioni da andare a guardare. Allora, siccome vedo che l'intersezione è uguale a 2, l'intersezione con l'asse delle x è uguale a 2, vado a vedere quale di queste non ha l'intersezione uguale a 2. E quindi vedo subito che questa non ce l'ha, perché se faccio y uguale a 0 e il denominatore va via, mi rimane x uguale a meno 2. Quindi no b per l'intersezione, mentre le altre due sì che ce le hanno, perché sono x uguale a 2 e x uguale a 2. Allora, vado a vedere l'intersezione con l'asse y, che è positiva. Quindi x uguale a 0, qua mi viene un'intersezione negativa, perché avrebbe meno 2 noni. Qua invece, se metto la x uguale a 0, mi viene 2 noni. Quindi, siccome deve essere positiva, la d non può essere no d. E quindi l'unica che è l'equazione di quella funzione è la e. Quindi è inutile stare a fare tutti i limiti e tutto quanto. Si guarda un attimino quello che è, si va per esclusione, diciamo. Allora, il numero 7, che chiede qual è l'ordinata dell'intersezione, l'avete fatto tutti, perché siete andati a sostituire l'ordinata dell'intersezione, quindi della funzione con l'asse delle y, quindi avete messo x uguale a 0 e vi è venuto y uguale a 2. Ok. Ecco, invece facciamo l'esercizio numero 8, che invece qualcuno proprio non ha fatto correttamente. Dice qual è il limite per x che tende a 2 più di 3x più 1 fratto 2 meno x uguale. Allora, il limite per x che tende a 2 più 1, vado a sostituire e mi viene 6 più, allora quando sostituite non c'è bisogno di mettere il più, si sostituisce 2 e basta, quindi diventa 6 più 1 fratto 0 e quindi mi viene 7 fratto 0 che fa infinito. Allora, siccome devo, ho il 2 più, e questo mi determina il segno di infinito, perché il segno di infinito è determinato da 0 sotto, perché a seconda di quello che c'è sotto, il rapporto, il segno di quello del denominatore, il rapporto cambia. Allora, il numeratore è positivo, quindi vado a farmi il segno del denominatore. 2 meno x maggiore di 0, x minore di 2, quindi vuol dire che se, qui è negativo, un minuto fuori. Allora, se vado a 2 più, cioè sono da questa parte, il denominatore com'è? Negativo. Quindi qui avrò uno 0 meno e quindi il risultato sarà meno. Qui dovete guardare il grafico. Andando a 2 più, cioè verso un intorno destro di 2, il denominatore risulta essere negativo e quindi il risultato è meno infinito. Adesso farò un altro video sulla parte restante dell'esercitazione.